Ciao ragazze, oggi volevo farvi vedere quello che ho preso dal sito Perlin e Bisù. In realtà questo è un periodo un po' particolare, infatti era un po' combattuta se fare l'ordine o meno perché come tutte sappiamo stiamo vivendo purtroppo un periodo molto particolare a livello mondiale. Si è sviluppata questa pandemia che purtroppo ha ucciso tante persone e quindi diciamo tutte le cose che normalmente facevamo sono state ridotte al minimo. Siamo in quarantena ormai da due settimane ma purtroppo la situazione sta avendo un esito ancora più negativo e quindi diciamo io come tante altre ragazze avevo anche un po' di difficoltà a creare e soprattutto non sapevo se era giusto fare o meno un ordine in questo periodo anche perché più si andava avanti più si rendeva conto che la situazione era abbastanza grave e quindi magari avevo pensato spesso di non farlo proprio per non appesantire i corrieri. Il mio problema però diciamo in particolare è stato questo che avevo finito sia gli aghi che il filo e quindi vedendo che la situazione stava sempre un po' peggiorando ho pensato che magari potevo comprarli proprio per cercare di svagarmi quel poco tempo che riesco durante il giorno anche perché è difficile creare le notizie che ci arrivano sono sempre un po' pesanti quindi è difficile proprio riuscire a trovare un momento per creare per staccarsi però devo dire anche l'altro giorno ho visto un video di Lisa e lì per lì anche io ho pensato che magari non era il caso di farlo però devo dire che dopo averlo visto ho pensato che forse diciamo ha fatto bene nel senso che lei nel suo video diceva che era anche un modo per far compagnia alle persone perché comunque stiamo tutte nella stessa barca nella stessa situazione chi più chi meno ovviamente ci saranno anche persone che sono purtroppo al nord quindi hanno una situazione ancora più grave e quindi diciamo più che altro sarà un video per farvi un po' di compagnia sono riuscito diciamo a fare quest'ordine io ho il 20 e mi è arrivato oggi che è il 23 e oggi proprio ho letto sul sito che loro non spediscono più anche perché è stato fatto il nuovo decreto in cui possono essere diciamo spediti solo i beni di prima necessità e quindi ovviamente le perline non sono un bene di prima necessità sono riuscita a farlo diciamo appena in tempo ovviamente se non ci riuscivo era quale avrei fatto un'altra cosa però diciamo in questo caso ho avuto la fortuna di riuscirlo a fare e quindi niente mi è arrivato oggi vi ripeto è un po' combattuta se fare o meno il video però ho pensato che alla fine poteva essere anche un modo per distrarsi quei 10 minuti e passare un po' il tempo allora detto ciò ci proviamo e vi faccio vedere quello che ho preso allora partiamo principalmente da le due motivazioni che mi hanno spinta a fare l'ordine ossia il filo fairline e in questo caso ne ho preso un po' di più e di solito prendevo quello più piccolino ho preso questo da 110 metri e l'ho pagato 13 euro e 9 quindi 14 euro all'incirca poi ho preso gli aghi questi della Miyuki qui io mi ci trovo benissimo poi oltre a questo ho preso un altro po' di perline che in realtà io avevo tempo fa avevo già programmato un ordine da fare avevo aspettato per farlo perché poi alcuni materiali non mi servivano più quindi avevo lasciato il carrello pieno alla fine ho aggiunto solo questi e ho preso tutto a fare l'ordine allora ho preso queste rocaille Miyuki 11.0 opac light orange lastre l'ho pagato 1,40 euro devo dire sono veramente belle non so se si vede bene ma sono arancioni aspettate magari provo ad accendere un'altra luce ecco adesso si vedono molto meglio sono proprio arancioni poi ho preso queste che sono sempre Miyuki da 11.0 light turquoise green opac anche queste molto belle semplicemente turchesi e bellissime poi ho preso 11.0 queste classiche queste sono le Miyuki quelle gold sempre le duragot perché io le altre non le uso più non mi piacciono più e ho preso la misura 15.0 e poi ho preso anche la misura 11.0 queste sono le yellow gold e le ho pagate 2,25 euro poi ho preso queste che sono le Miyuki 11.0 matte black ab queste sono davvero belle particolarissime vedete hanno diciamo i colori spaziano dal verde al blu al viola ci sono alcuni marroni veramente bello come tonalità di colore poi ho preso superduo queste polychrome pink olivine belle belle particolari particolarissime proprio veramente belle poi ho preso queste che sono le polychrome acquatil queste vabbè sono stupende non c'è manco bisogno di dirlo veramente belle poi ho preso queste polychrome indico orchid 1,66 euro queste guardate che colori e poi ho preso queste e poi ho preso queste cioè queste sono bellissime pisley tropical rainforest le ho pagate un po' 3 euro però guardate che colore stupendo cioè sono veramente un colore bellissimo e poi ho preso queste me le ero dimenticate sono le rocal miyuki 11.0 opac yellow queste in realtà le avevo scelte un po' di tempo fa mi piaceva tanto questo colore ho preferito prenderlo poi sempre di miyuki ho preso le white opac matted 1,70 euro e queste sono il classico bianco ovviamente bianco su bianco non si vedrà 15.0 quindi le piccoline poi ho preso questi che sono bicono swarovski jetta b2x da 4 mm beh questi non c'è bisogno di dire niente perché sono bellissimi come al solito i jetta b io li avevo quasi finiti mi erano rimasti 5-6 preferito riprenderli loro poi li vendono i pacchetti da 20 e io un pacchetto da 20 pezzi l'ho pagato 2,38 euro e ne ho preso quindi due ne ho preso un altro così li ho presi doppi poi ho preso questi che sono i opal ciclamin opal shimmer devo dire molto particolari forse li aspettavo un viola un pochino più chiaro proprio ciclamino che più catto della foto sembravano più chiari però non sono male è un colore è un colore comunque opal quindi diciamo rimane un po' non è brillante come gli altri ma rimane un po' più un po' diverso ecco per farvi capire la differenza questi sono i classici forse anche il fatto che io sono abitato a prendere questi abitu e pere questo invece non ha nulla anche questa è un po' la diversità che riscontro però devo dire è un colore comunque bello cercherò sicuramente di usarlo e poi ho preso come bicono da 20 pezzi ho preso i jet questi classici neri anche qua ho preso due bustine perché in modo tale che mi rimangono almeno 40 pezzi e poi ho provato anche qua a prendere un colore nuovo se non sbaglio sono nuove uscite che sono i chrysolite opal shimmer da 4 mm anche questo molto chiaro molto particolare anche questo non vedo l'ora di usarlo magari soprattutto nella stagione estiva poi ho preso queste perle questa è sempre la collezione nuova iridescent brim rose da 3 mm da no mi sa che è invertito perché questi sono 3 questi sono 4 no credo che sia stato invertito il fogliettino sopra questi sono iridescent dream rose da 4 mm queste sono veramente belle e fa parte della collezione nuova dove c'è questi qua verdi e questi violetti e poi ho preso questi iridescent light blue 20 pezzi però questo è da 3 mm lei vabbè qua mi ha scritto 4 mm invece sono da 3 mm queste niente sono le classiche perle swarovski anche queste molto belle poi ho preso poi ho preso rivoli swarovski che io adoro orange blue the light da 14 mm queste ero curiosa di prenderli perché diciamo ero curiosa di vedere com'erano poi ho preso questi questi li adoro burgundy the light sempre da 14 mm questi poi sono belli perché hanno quei riflessi hanno il dietro che è viola quindi hanno dei riflessi che spaziano dal blu al viola sono stupendi e li vedrei anche ben abbinati in realtà con questi un po' opachi poi ho preso royal blue the light questo è bellissimo questo si è girato vabbè lasciamo così e poi ho preso questi che sono due basi orecchino questi qua con il clip che hanno anche la parte sotto che c'è l'anellino c'è il clip qua che si apre aspettate ecco qua c'è il clip che si apre e sotto c'è l'anellino per attaccarci con la nostra creazione in realtà io questi li ho presi per mia nonna perché mia nonna gli piacevano tanto degli orecchini che avevo fatti però lei non riesce a portare le monaghelle e allora mi ha chiesto se li trovavo un clip e dopo tanto cercare perché è un po' difficile trovare i clip che hanno sotto l'anellino sono riuscita a trovarlo adesso purtroppo il problema che io mia nonna è tantissimo ormai è da un mese e mezzo che non la vedo e ovviamente non vedo nessuno perché siamo tutti dentro casa quindi ho pensato di prenderli comunque per poterli rifare e poi di poterla rivedere al più presto possibile ecco e poi mi hanno mandato questi due quadratini come omaggio sempre della Swarovski e niente ragazze io spero di avervi tenuto un po' di compagnia e speriamo in una risoluzione al più presto di tutta questa situazione e ci vediamo presto